In tutta Italia e anche a Lecce la CGL punta il dito contro il concorso nella scuola con il sitino organizzato davanti alla prefettura. Un modo per celebrare il giorno del merito, quello dimenticato secondo il sindacato anche dal nuovo ministro all'istruzione Francesco Profumo. E' per questo che si sono dati appuntamenti ai lavoratori precari della conoscenza, delle scuole, delle università, degli enti di ricerca, dei conservatori e delle accademie, nei presidi che si sono ripetuti a catena in Italia davanti alle prefetture e alle regioni. Qui da noi sono stati tagliati più che in altre regioni posti di lavoro. Ovviamente tagliare posti di lavoro, già la ministra Gelmini diceva non abbiamo licenziato nessuno, non hai licenziato ma non hai più permesso a tanti lavoratori precari da anni e che in qualche modo avevano costruito delle vite su questo lavoro, anno dopo anno rinnovato come incarico annuale. Questi lavoratori sono ancora lì e aspettano di essere messi in ruolo. Quindi di questo concorso nessuno ne sentiva la necessità. Il concorso e le selezioni pubbliche sono l'unica forma di reclutamento prevista dalla Costituzione, ribadiscono dal sindacato, ma non devono essere funzionali a quelli che sembrano i prodromi della campagna elettorale. Il lavoro svolto con passione in questi anni dal personale scolastico, la professionalità acquisita nell'attesa dell'agoniata assunzione a tempo indeterminato, non può essere infatti sacrificato sull'altare di uno spot preelettorale. Grazie. Grazie.